Quando tocca a te, il tuo nick lampeggerà. Sarà allora il momento di effettuare un'azione tra quelle disponibili. Per rivedere le carte in tuo possesso, basterà cliccare sulle carte coperte nella parte inferiore della schermata di gioco. Durante il tuo turno potrai passare la mano cliccando sul bottone Fold, chiamare una puntata facendo Call o Check, oppure puntare o rilanciare utilizzando il bottone Bet Raise. Per puntare sarà possibile utilizzare i bottoni con i moltiplicatori oppure lo slide per selezionare valori di puntata differenti. Se sono rimasti solamente due giocatori, sarà possibile mostrare una o entrambe le carte all'avversario al termine della mano. Tra le opzioni disponibili potrai selezionare di non mostrare mai le carte a fine mano se nessuno chiama, se perde a fine mano e se vedere subito le carte appena le ricevi. Grazie. 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 Grazie a tutti